Salve a tutti, qui c'è la mini wolf girl, di nuovo nella wolf caverna, con la wolf misha La wolf misha è arrabbiata, quindi ci dà le spalle Allora, sono tornata a Gallipoli, è stato fantastico, più che essermi abbronziata mi sono fatta male Ho conosciuto DJ Antoine È stato fantastico, inoltre ho preparato le basi per il prossimo video, cioè questo video, che sarebbe ship it or rip it Però prima di iniziare vorrei dirvi una cosa, anche abbastanza seria Quello che è successo sulla page di Instagram, cioè dell'admin Deucalion, che viene insultata perché a lei piace la desert wolf Questa cosa io non la voglio più vedere Perché, innanzitutto, non è giusto, ci vuole rispetto La prima cosa è il rispetto E, ok, le piace la lupa del deserto E allora? Cioè, io è il personaggio che odio di più E allora? Poi, ragazzi, vi ricordiamo, sono soltanto personaggi e soprattutto sono soltanto gusti Non bisogna insultare una persona perché le piace una cosa diversa da quello che piace a noi Dunque, adesso iniziamo con ship it or rip it Pescherò a caso due personaggi delle serie televisive, comunque delle saghe dei film E quindi dirò se li scippo, oppure no Inoltre, pensavo più avanti di fare una versione con i canzoni animati, tipo la Disney e anche non della Disney E peschiamo subito il primo nome E' saltata fuori da solo E' patrocchio E' uscito Negan Patrocchio Negan E' la cosa più bella che abbia mai letto in tutta la mia vita Ovvio che gli scippo Prossimo nome Rick Grimes E, così è un pistol Maria Ma secondo me Maria non è una che fa con i più grandi Cioè, proprio caratterialmente non ce la vedo Quindi... No, dai Lidia Martin E Anakin Just like lovers, just like lovers do That's how we grow, so take it like the grown of life's not a fairy tale, it's that too old Now I'll have your eyes, and to take care of you, and end it like lovers Ma a me sinceramente mi sta partendo lo scippo, quindi direi proprio di sì Oh, Cersei Lannister Se esce col fratello Io e su... Ma non sa neanche se l'ho messo il fratello Non mi ricordo, l'ho fatto qualche giorno fa No, scherzavo, scherzavo E' uscita Cersei con Miserys Targaryen Vabbè, due incestuosi, secondo me vanno d'accordo Ship it Oh Che strano, mi ricordo dove di averlo messo E' uscito Klaus Con Daryl E' fantastico, cioè adoro Ma ora che ci penso io non sono buona per questo gioco, perché io scippo praticamente qualsiasi cosa Oh, Sebastien Vallée, cioè la Beth Con Elina Oh no, ma che cosa strana Repeat Ah, Daenerys Daenerys e... Apriti No, allora io non l'ho fatto apposta, giuro Secondo me questo è il destino Gli scippavo allora Continuerò sempre a scipparli Ci due Vediamo chi sono Daemon E Kylo Ren probabilmente io sarei in grado di scippare una roba del genere ma non funzionerebbe mi dispiace ah questi sono proprio attaccati, bello! Achille, vediamo chi è il suo nuovo amante Derek secondo me ti prenderebbero a quelli graffi, morsi, pendenti, cioè perché non si sopporterebbero però io gli scippo lo stesso ma... mi dispiace... cioè io gli scippo... mi dispiace oh, Jackson! vediamo con chi esce Jackson is size! bheh... why not? ship it! ah ma questi sono due ma sono io! no, non sto scherzando, cioè sono io con chi sarà finita il mini wolf, guarda! purtroppo da un compadre che era già preso è un po' gelosa con le crush vediamo con chi sono uscita musica 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 comunque non l'avevo ancora precisato ma nel gioco avevo anche inserito me e la wolf mecha per movimentare un po' la cosa già nello scorso scipito ripeto avevo inserito anche me, correndo un grosso rischio cioè di finire con cose come il tizio dei black block o Jabba the Hutt sto giro invece ho fatto una cosa meno ignorante, solo ho continuato a inserire me perché sono egocentrica e ho inserito lei perché merita tutto il mio amore musica musica ci sono gli ultimi due rimasti sulla terra Peter! ecco che mancava, mancava il mio Peter! Peter con... Alison musica Èη HIGH Noi ci rivediamo al prossimo video!